Atenzione! Papà! Posso almeno sapere che è quello? Lo so, sono stato un idiota. Stan ha un amante. Che diavolo vorrebbe andare a letto con Stan? Ma io, a dire il vero, ho già in mente un piccolo club. Tuesday Club. A noi tre! Non avresti voglia di occuparti di cibo. È sempre stato il mio sogno che diventasse il mio lavoro. Ma poi sono rimasta incinta molto giovane, così. Oh cavolo, è proprio lui, Enric Moliner, lo chef. Tiene delle lezioni di cucina il martedì. Non puoi costringermi a tenere quelle maledette lezioni. Come si scrive, Sally? Si scrive, Sally! E ora, al lavoro! Non hai seguito la ricetta? Ho sperimentato un po'. Sì, ma qui devi seguire le istruzioni. Si rende conto del tono che usa quando parla con noi? Chiedo scusa? Ma certo. È scusato. Con il sashimi io uso l'angolo del coltello e taglio con un movimento lungo e ampio. E ci saranno altri corsi? No, io credo che sia stato un grosso errore ritornare qui in città. Brindiamo! Uno, due, tre! Ehi! 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 Ehi!